Giorgio Revisore Ho conosciuto la guerra a tre anni. Ho vissuto per 16 anni nella guerra civile Somala. Sono figli maggiore di una famiglia numerosa. I nostri genitori hanno fatto di tutto per garantire a noi figli la possibilità di costruirsi un futuro migliore in Somalia. Purtroppo non dipendeva da loro perché ci portiamo questa guerra da 30 anni. Essendo giovane avendo anche il diritto di costruire un futuro migliore in Somalia con la mia famiglia non era possibile. Questo è uno dei motivi principali che mi ha costretto a lasciare la Somalia. Non avendo un passaporto rosso, europeo, non potevo certo fare un fiaggio sicuro perché non avendo la libertà di movimento significa fare un fiaggio lungo e rischioso. Per arrivare in Europa a un luogo che consideravo anche allora era un luogo di pace, un luogo in cui potevo, come dire, riscatto. Mettiamolo così perché ero anche alla ricerca della felicità. Ho dovuto fare questo fiaggio che è durato sette mesi. Sono arrivato sano e salvo in Sicilia. Poi mi hanno portato qui a Torino, precisamente al settimo turinese città che mi ha accolto. Sono arrivato qui a 19 anni, sapendo non avere qua nessuno, non conoscevo l'italiano, partivo da zero, ma grazie anche al sostegno da parte di cittadini semplici, sette mesi, turinese e italiani, sono riuscito a raggiungere alcuni dei miei obiettivi. Imparare italiano, fare esperienze lavorative, trovare lavoro, trovare casa, chiedere le città italiane. Questi erano alcuni dei miei obiettivi. La mia famiglia, dopo dieci anni, si può dire che sta meglio di dieci anni fa. mio fratello Aues è diventato medico, mia sorella Zeneb è infermiera e mio fratello Hassan fa quarta anni di architettura. Grazie al mio lavoro sono riuscito a sostenere i loro percorsi di studio. C'è una data che ha cambiato il mio modo di vedere e di vivere qui in Italia, il 3 ottobre del 2013. Se vi ricordate, morirono 368 persone all'Embedusa. Qualche giorno dopo di quella strage, che si è parlato molto, ho ricevuto una telefonata da un insegnante di un istituto professionale qui in Piamonte. Mi chiese di venire a confrontarmi con alcuni dei suoi ragazzi. 9 su 25 di quei ragazzi si sono rifiutati di fare il minuto di silenzio. Era preoccupato quell'insegnante, io non avevo neanche esperienza di fare progetti e lavoratori con le scuole, però dovevo per forza agitare quel confronto. Andò due ore a quell'incontro. C'era un ragazzo che era il portafoggi del gruppo che mi faceva delle domande, secondo lui scomodo, per me erano le domande da rispondere. Sono tornato a casa. Ho ricevuto qualche settimana dopo un'altra telefonata. Sembra di essere insegnata, ma questa volta era tramite, perché nel frattempo quel ragazzo che era il portafoggi del gruppo è stato scelto e eletto per uno dei rappresentanti dell'istituto. E ha voluto fortemente organizzare un'esamblea per affrontare il tema di migrazione. Quando mi sono presentato davanti a quella scuola, mi ha accolto, mi ha offerto il caffè, si è scusato. Io non avevo capito questo suo approccio. Nel frattempo non so se è cambiato. Però non avevano anche questa, diciamo così, avendo questa esperienza di andare alle scuole, abbiamo iniziato a fare l'esamblea. C'erano 400 ragazzi. Abbiamo iniziato a distribuire i bigliettini per dare anche la possibilità a molti ragazzi di fare le domande, anche anonime. Nel frattempo, quando abbiamo iniziato, è arrivato questo bigliettino, che non era rivolto a me, ma era rivolto a lui. Caro tizio, rivolto a lui. E rituavo di sparare a queste persone nel mare mediterraneo. Adesso fai finta bonista. Io quel biglietto ho conservato e da quel momento ho iniziato ad andare alle scuole, perché ho capito che il mediatore non dovrebbe lavorare soltanto con i migranti, ma anche per barare i territori. Barare i territori significa per me andare alle scuole. In questi sei anni ho incontrati più di 100.000 studenti. Qualche regentamento ho fondato un'associazione culturale, Generazione Ponti, insieme ad altri cittadini rifugiati, seconda generazione italiana, accumulati del desiderio di realizzare azioni concrete capaci di essere ponte tra la generazione. Realizzare azioni concrete anche capaci di creare ponte tra diverse culture. Ha portato 30 rifugiati di 14 nazionalità a conoscere i luoghi storici dell'Italia di Turino. Musei, ma non solo. I luoghi che hanno fatto l'istoria dell'Italia. Non si può essere stranieri per sempre. È fondamentale imparare anche a conoscere la società di acoglienza. Bisogna diventare cittadini consapevoli e essere soggetti attivi e protagonisti, diciamo così, dal futuro della nostra reggetà e della nostra società. Infine, grazie anche allo convenio di San Paolo, abbiamo realizzato la seconda edizione del Festival dell'Europa Solidale e del Mediterraneo a Ventotene. Una isola che abbiamo scoperto, perché fa parte anche del nostro percorso di studio. Io non sapevo l'essenza di questa isola, l'importanza di questa isola, ma soprattutto anche il manifesto di Ventotene. Portare i rifugiati in quel luogo significa anche far diventare quel manifesto un strumento, perché quando parliamo di cooperazione internazionale per me significa quel manifesto se oggi 500 milioni di abitanti in questo continente hanno saputo convivere in pace, significa anche che la Somalia, che è un paese di 10 milioni di abitanti, stessa lingua, stessa religione, stessa cultura, due fiumi, terra coltivabile, se già portiamo a 30 anni questa guerra significa anche mancarsi di strumenti. Per me il manifesto di Ventotene potrebbe essere il prossimo sogno di realizzare in Somalia. Far conoscere questo manifesto può essere un strumento per dire gli europei si sono combattuti, quei capitali bellissimi europei che oggi vediamo non tanti anni fa erano distrutti. Se è stato possibile in Europa può essere un fatto possibile anche in Somalia. Grazie.